... Si arredi, ah, ci ha dato 50 anni e arredi. E devo stare triste tutta la vita. E' molto mentre la barzelletta e' rida. Raccontala allora che ci fai ridere pure noi. Allora... Oh, ascolta. C'e' un tipo di colore. Che tipo di colore? Un tipo di colore. Ho capito, ma rosso, verde... Un tipo di colore. Non la racconto più. Ah, racconta la barzelletta. Aspetta e lascia la raccontare. Allora c'e' un negro che bussa la porta di un nightclub. Ho capito. Quello che puoi aprire lo spioncino e lo tira fuori con le dita nel naso. Ho capito quello che dice bellissimo. E' un capolavoro della barzelletta. Ma non e' quella? Ma qual e' quello che lo tira fuori con lo spioncino? Che sta raccontando un'altra barzelletta? E' fagliela raccontare. Allora c'e' un negro che bussa la porta di un negro. E' quella che poi lui va in un altro nightclub. Quello. Che lui corre forte. Si, però non me la rovinare. Lasciamela raccontare. Ma quando si ride in questa barzelletta? Jack è una barzelletta e si ride alla fine. Una barzelletta e si ride alla fine. Una barzelletta e si ride alla fine. Ma puoi aspettare. Ti hanno dato trent'anni e puoi anche aspettare. Allora aspetteremo. Scusi un attimo. Come mai lui ha dato cent'anni a noi cinquanta? Johnny pure tu stai raccontando una barzelletta. La sto odiando sta barzelletta. Allora. C'e' sto cazzo di negro. Che vuole fare dalla porta di questo nightclub di merda. Allora. E portarei il responso. E portarei il responso. Ciao! Oh, ciao! Si arrivi ah, ci ha dato 50 anni e arrivi. Devo stare triste tutta la via, e mi metto la barzella e rito. Raccontala allora che ci fai ridere voi. Allora, c'è un tipo di colore. Che tipo? Un tipo di colore? Ne ho capito, ma rotto, verde... Un negro! Un tipo di colore negro! Non lo racconto più! No, dai! Non lo racconta più! Raccontala tu, aspetta e lascia la raccontare! Allora c'è un negro, che busta alla porta di un negro, che busta alla porta di un... Che bucego! Che bucego! Che è comico. Che è comico! Che è comico! Che è con la posa con il negro! Ah, ho capito. Poi avrà lo spioncino e lo tira fuori con le dita nel naso. Ecco ho capito quella che dice bellissimo. È un capolavoro della barzella. Oh, è bello. Ma non è quella. Ma qual è quella che lo tira fuori con lo spioncino? Ehy Jack sta raccontando un'altra barzelletta! Jack sta raccontando un'altra barzelletta! E fangiela raccontare. Allora c'è un negro, che busta alla porta di un nanaclub. Ah, è quella che poi lui va in un altro night club. Quello. Che lui corre forte. Sì, però non me la rovinare, lasciamola raccontare. No, è così. Ma quando si ride in questa barzelletta? C'è che è una barzelletta e si ride alla fine. Una barzelletta e si ride alla fine. Capito, ma mi sto annoiando. Nì, ma puoi aspettare. Ti hanno dato 30 anni e puoi anche aspettare. E allora, allora, aspetteremo. Scusi un attimo, allora come mai lui è andato a 100 anni a noi 50? Gli giorni, pure tu, stai raccontando una barzelletta. Inga, sto odiando questa barzelletta. Allora, c'è sto cazzo. Inga, sto cazzo. Inga, sto cazzo. Inga, sto cazzo. Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti